Vale Animal Pet Animalista e ambientalista Ciao a tutti, oggi è una nuova puntata di Conosciamo le razze Dog Oggi parleremo di una razza antichissima che mi è stata consigliata nei commenti Il Cerneco dell'Etna Il Cerneco è una razza molto antica che ha subito poche manipolazioni Ha un fascino molto primitivo È longevo, quasi 15 anni Ed è anche molto intelligente Mole, peso femmina 8-10 kg Peso maschio 10-12 kg Altezza, femmina 42-50 cm, maschio 46-50 cm Colore, fulvo chiaro, marroncino Moto Corse lunghe nei campi e passeggiate Cura del pelo, una spazzolata ogni tanto basta Però d'inverno fornigli sempre un cappottino per il freddo Ricorda sempre che per gestire questa razza come per molte altre deve avere un tempo Perché ogni razza ha la sua esigenza Grazie a tutti Grazie a tutti